Oggi si arrostisce Peppa Porchetta Se tutti voi conoscete Peppa Pig Vi avviso E' malvagia Peppa Pig sta iniziata ad impazzire Stanno iniziando ad uscire Video strani dove dice che Lei ha mangiato la sua famiglia Quindi oggi vedremo i video più Paurosi su Peppa Pig Vi piacciono i video spaurosi Iscrivetevi sotto nei commenti E se non volete ritrovarvi una magliala fuori di casa Iscrivetevi al canale C'è un sacco di pollici Pollici in su E visitate lo shop con la nuova maglietta di Pingu Iniziamo Ah Youtube Che posto magnifico Capricciosa con acciuga alla bala Per favore non fatevi piacere Youtube anch'io Fatelo arrivare un milione di iscritti Ora In onore di Youtube Youtube In onore tuo E il profumo si sente che è incantevole Iscrivetevi al canale di Youtube anch'io Ok Ora andiamo a cercare Peppa Pig Spaurosa Peppa Pig E scherri Voglio proprio vedere che cosa succede Eeeh mamma mia Ma che schifo Ma che è sta cosa Allora cerchiamo di mettere qualcosa Che non mi venga torto da Youtube Ok E Peppa Pig Onore Story Peppa Mangia la sua famiglia Peppa Pig Che mangia la sua famiglia Nooo Come fa un maiale a mangiare altri maiali Ma Questa è la mia stessa relazione Salute Allora non è Peppa che mangia la sua famiglia Eh Peppa Pig Che mangia la sua famiglia Io sono Peppa Pig Eeeh Calma Era una tranquilla giornata Dove Peppa decise che Il mio estrone non gli piaceva più Chedi possiamo andare a giocare fuori Ah tornata qua Nooo Vabbè è normale che Peppa Pig E salto su fan Ok Ok Mi metto Le mie bellissimi stivaloni Ma 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 no Peppa Ascolta Peppa Che cosa dovete fare Bene 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 Nooo E' quello che ti meriti Brutta Porchè Quello che ti meriti Guarda tuo fratello George No aspetta Dice che ti prende e ti fa andare in un incidente No aspetta Stop George Ah pensavo volesse mangiarlo Invece no C'era la data attività Ok Mentre la data attività Alla fine Non è seguita nulla Povero George Zitto Ma che cosa sta vedendo È fatto talmente bene Mamma mia Eeeh Non mangerò più panini in vita mia Oh mio dio Ho diventato supereroe Dopo la redattività Ho diventato No non mi No non te li mangiare Bacon No Peppa Peppa no Peppa Ha mangiato su papà Vabbè È la vendetta Perché È pazzita E ora che succede No l'hai scolacciata con il bastone Corri 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 Bamba Maiala Corri Aiuto Ecco Eppure lei Ha fatto la fine Eh Peppa Pig Ha mangiato tutta la sua famiglia È la cosa più orribile Che abbiamo mai visto Beh Certo Mancava pure il fratello E adesso È diventata Una bomba E lui Un'arancina Di piena Se si è auto Mangiata Che cos'è Va bene va bene Passiamo al prossimo Questi video di Peppa Pig Mi stanno Spaurando È il modo più brutto Che possa esistere Peppa Pig Attacco da Siren Head No dai Mettiamo la Siren Head Più Peppa Pig È la fine del mondo Allora Questo sarà un video Alquanto bello Un tizio con la moto Grande Quindi dai Mettiti in moto Video Fammi vedere Cosa c'è di horror Tra Siren Head Ero una bruttissima giornata Di pioggia In quel di La casa Di Peppa Porchetta E nessuno dice ancora niente Piove Adirotto Piove Ancora Adirotto Piove Basta Dov'è Peppa Pig Che è il suo fratello Giorgi Stanno dormendo E quella finestra È storta E mi sta urtando Il cervello Prottissimo È la finestra Ma perché Perché dovete fare Le cose storte Oh no Ho visto Una chiappa gigante Passere davanti Alla finestra Peppa si è svegliata Attenzione Peppa si è svegliata Non ti preoccupare Non era niente Continua a dormire Ma perché Stai dicendo Con quella faccia Un bosco Il luogo più brutto Che possa esistere Sulla faccia della terra E poi una maiala Che lo guarda Con questi occhi Così Forse Avrà Visto Una mucca Tranquillo Giorgi Fai bei sogni Non c'è nessuno Fuori Non ti preoccupare So Grazie Grazie Ehi, sporcaggione Ehi, non si vedono nel bagno degli altri Eh, li puoi vedere mentre stanno facendo cose grosse Oh mamma mia Che è sto terremoto? Oh, si è vattuto Anche qua, si è vattuto, aiuto Ora ti piove dentro casa E che se non è successo mai? Wow E' un gigantesco sireno Che guarda intensamente questo gran pezzo di maiale Dai, è palese che ora se lo mangia Mi devi dare un bacetto Se l'ha pappato No, non doveva Farselo Guarda, rimarrà solo l'osso C'è, ha tolto il tetto, si è mangiato il papa pig e ha rimesso il tetto È stato gentile Si voleva solo fare uno spuntino al Mac Quindi, bello, molto bello Andiamo per i più visti Lo scary shout out of the big toys Tre anni fa Oh, aspetta, 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 aspetta Attimo, non l'ho mai visto sto video Ok, il papà Quello dovrebbe rappresentare la barba Ma che si sia sforcato di ketchup Wow È così realistico Ehi, non fate maiale voi due Scusate Devo farlo Eh, quanto ti ricapita nella vita Oh, che ridete Ah, dormite Ecco, perfetto E durante la notte George George Si sveglia E piange Chi è? No, no Ha paura Cos'è successo? È avuto un incubo? Mi sto ando sotto È bella quella sottiletta a forma di coperno Papà, papà Eh, sto piogendo Mamma mia, è affattato Vabbè, è grande e grosso come lui Qualsiasi Ma si è spaventato Ma che sta succedendo? Si è spaventato Perché? Perché? Prossimo video Peppa Pig e George Giocano a luci spente Ok Vedi Un Un George Molto Ah, ok Perché devono giocare a luci spente? Mi scusi Mi fanno paura Passare così No Ah, ok No, era solo succo di pomodoro Non vi preoccupate Quello è salsa di pomodoro Motti Bene Che stavo scherzando Eh, è ketchup Basta Ok ragazzi Posso dire che questo video Su Peppa Pig Ora non lo posso Anche in cui è qua Per il ragazzissimo Che vi sia piaciuto E nulla Iscrivetevi al canale Se non lo avete ancora fatto C'è un sacco di pollice in su Qua posto le esiste È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video A-CHAO 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 Grazie a tutti.